Questo tempio è stato costruito dalla mia famiglia mille anni fa. Il mio nome è Kazumoto. Tu, come ti chiami? Le mie parole non sono corrette? Mi eserciterò nella tua lingua con te. Se tu vorrai onorarmi. Mi hai tenuto in vita solo per esercitarti. Allora che vuoi? Conoscere il mio nemico. Ho visto quello che fai tu ai nemici. Nel tuo paese i guerrieri non uccidono? Non tagliano la testa a uomini sconfitti e inermi. Il generale Hassenghami ha chiesto da Italo a togliersi la vita. Un samurai non sopporta la vergogna della sconfitta. È stato un onore tagliargli la testa. Molte nostre esanze a voi sembrano strane. Lo stesso vale per noi con le vostre. Per esempio, non presentarsi è considerato estremamente scortese anche tra nemici. Nathan Oltren. Sono molto onorato. Mi è piaciuta molto questa conversazione. Ho delle domande. Io ho fatto la mia presentazione. Tu hai fatto la tua presentazione. È stata una splendida conversazione. Ho delle domande. Le domande dopo. Chi era il guerriero con l'armatura rossa? Era mio cognato, Hirotaro. È la donna che si occupa di me? Mia sorella, moglie di Hirotaro. Si chiama Taka. Ho ucciso suo marito. È stata una buona morte.